Il Lions Club è sempre vicino ai territori e alle comunità sulle quali insiste, attraverso i club, in questo caso il club Valdelsa e il club San Gimiliano della Francigena. Questa donazione fa parte di un progetto addirittura più ampio, internazionale, in quanto la Fondazione Internazionale dei Lions, presente in 205 paesi del mondo con oltre un milione di mezzo di soci, ha deciso di contribuire verso il sistema sanitario nazionale con una donazione importante di moltissimi ventilatori hormonali, uno dei quali è stato destinato qui a Campostagio, ma è un progetto internazionale. Questo ha testimonianza che l'attenzione verso le comunità è fondamentale non solo per i singoli club, ma anche per l'organizzazione internazionale che li rappresenta e di questo noi siamo molto, molto orgogliosi.